Falsi contratti di energia elettrica, altre quattro denunce. Un giro di truffe venuto alla luce nello scorso mese di ottobre a farne le spese ignari cittadini di Montevarchi, Terranova Bracciolini e San Giovanni. In tutto 65 le segnalazioni arrivate sulla scrivania delle forze dell'ordine. Un raggiro che ha seguito sempre lo stesso ITER. Nelle abitazioni arrivava l'avviso dal Servizio Elettrico Nazionale di cessazione del contratto e la notifica del passaggio ad un altro noto gestore all'insaputa dei clienti e anche del nuovo gestore stesso. I malcapitati si ritrovavano così con un nuovo contratto sottoscritto con un altro gestore. Un contratto che al di là del nome dell'intestatario e del numero di contatore presentava tutti i dati sbagliati risultando quindi completamente falso. Le indagini hanno portato alla denuncia di due persone provvedimento che non ha evidentemente placato il fenomeno perché nelle ultime settimane anche una decina di cittadini levanesi si sono presentati dai carabinieri con in mano lettere di conferma della disdetta del contratto di energia elettrica. Immediatamente i militari di Levane hanno fatto partire gli accertamenti che hanno portato alla denuncia di quattro persone collegata ad una società operante nel napoletano. I quattro denunciati, un cittadino marocchino, uno di origine brasiliana e due donne italiane, avrebbero quindi disdetto i contratti di fornitura dell'energia elettrica delle varie vittime ed avrebbero stipulato falsi contratti di fornitura con una diversa azienda satellite. Il tutto accadeva ancora una volta a nome degli ignari cittadini ed apponendo per conto loro delle firme palesemente false configurando così due reati quali la truffa e la sostituzione di persona.